Benvenuti in un altro episodio di Minecraft E siamo ancora alla ricerca della mia casa E mi sembra Che è di Qua Dovrei farmi delle torri giganti Pena di torce per vedere Si sta facendo buio Non è un bene Come si chiama se la luna è così? Regolarla più a lungo solo che ho paura di camminare in qualche zombie Zombie Pollo Ragno Ragno vai via Aiuto Ecco ecco la vedo la vedo la mia Casa In seguito da un anno Aiuto Non posso correre buco Aiuto Aiuto Ce la posso fare Ce la sto facendo Ok ce la faccio Morto Che fortuna che ho trovato a casa Non è la mia casa La casa è questa Penso si Domiamo Ero un giorno stancante oggi Abbiamo fatto molto Bruciate Dai vieni vieni Dai vieni aiuto Che fortuna Qualcosa mi ha colpito Sono stati La fame 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 Mangiare Mangiare Metto al tavolo a mangiare Gnom 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 Ok Una armatura Molto bene Mi serve ancora questa roba qua Spero che mi si sente bene 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 E' qua E non è ancora finito Proprio quello che mi serviva Prendiamo un altro Ciao Ancora qua a casa da solo Forever Lord Ah vuoi uscire? Esci Se non vuoi uscire Peggio per te Ok Ciao Se vuoi entrare Qua manca una porta Ok così Ok Vediamo Ok 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 E non cresce È possibile che dura di più adesso Adesso Può crescere Brutto Acco fatto E ver media aspettiamo adesso che finalmente è uscito e vuole guardarsi intorno cosa ha fatto il loro nuovo capo nooo non volevo aspettare chiudiamo la porta dato che non penso che voglia ritornare compasso mappa molto bene prendiamo questo la mappa mi serve la tengo per questo mi serve nuove spade ne faccio due penso che basta torniamo nella grotta quanto è profondo ok penso sia tipo ai 14 mi sembra la lava mi sembra non voglio dire una stupidaggine che parla che parla che parla ok cosa vuole fare? una pala, una pala, una bella pala, perché sto parlando così non ne ho idea, ho un po' di male di gola perché sto parlando tipo da due ore. Lava dove sei, oh mio dio sono entrato dentro, cioè non importa, non trovo niente, proprio niente di niente di niente. Redstone, si avevo detto che smetto ma non posso smettere di dirlo, Redstone, non so perché lo dico, e so che l'ho già detto ma mi piace la parola, per qualche motivo. Non trovo niente, perché non c'è la lava, perché non c'è, non ne ho idea. Adesso mi ricordo, il buco, tam 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 tam, non ci siamo ancora entrati, dobbiamo farlo. Sì, assolutamente. E vorrei farmi un orologio, l'unica cosa per cui mi serve l'oro. Vero? Sì, mi sembra. Boh, non me lo ricordo. Cioè, nel senso non mi ricordo se mi serve l'oro per qualche altra cosa, ma non penso. Ciao NPC. Se esci troppo morirai. Sì. Li lascio vivere, dai, potranno morire di fame qua fuori. Il buco dov'era? Non so che era qua vicino. Vicino, vicino, me lo sento. Perchè li ho uccisi per salire al livello 8. Dovemmo fare una scritta dove c'è scritto LEVEL UP. Mi ricordo che stavo scappando da un ragno. Mi ricordo che stavo scappando da un ragno. Va bene. Guarda solo una mia sensazione.